Caronnese e Bustese, una di fronte all'altra, nella prima di ritorno della Gironea di Serie D. Non sono passati nemmeno dieci minuti di gioco che Galli porta in vantaggio la Caronnese. Non sono passati, non sono passati, non sono passati, non sono passati. Al ventiquattresimo Scaramuzza mette il timbro finale ad un'azione capolavoro, Caronnese 2, Bustese 0. Su calcio di rigore di corno al quarantaduesimo arriva la rete del 3 a 0. In apertura di ripresa, Maerfa Poker! Grazie! 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 Il pesante 4 a 0 con la nuova capolista caronnese porterà in serata alle dimissioni di Gans. Grazie! 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 Grazie!